Presidente, 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 in riferimento all'ordine del giorno sulla professione del Vicepresidente, io ritengo che in questa città negli ultimi tempi si è sorprendito un po' gli equilibri, questo lo dico, da tempo, tra maggioranza e opposizione, c'è una confusione, non si sa, ovviamente la distrutta abbiamo una parche delle modifiche di regolamento per dire nel punto di vista chi sta in opposizione, chi sta in maggioranza, cose che io non avevo mai sentito nel passato. Detto questo, chi mi parla ovviamente oggi si è messo dalla Vicepresidente, perché si ritenevo di fare un altro percorso. Però Stategia, al di là delle tue scelte di un passato che ha fatto e sono opinabili, ho sempre riconosciuto del Vicepresidente del Cercone, una certa coerenza, in base a te lo dico, c'è questo ha sottolineato, che è una persona che con grande spirito di correttezza, avvenuti da parte, in parte della parte della matranza, dice mettiamo un freno a questa moragia di conclusione istituzionale, tra la maggioranza e la condizione, la maggioranza che si vota il Vicepresidente, che poi per un fatto di inizio di voi potete aspettare, dovrete aspettare alla proposta di inizio. Io, guardate, questa maggioranza è stata sempre che io finisco con parlo di carte e l'abbiamo denunciato più volte. Dico, mettiamo un freno, prima o poi tu hai messo un freno, no? E cercare veramente di ricostruire in questa città un equilibrio è un ruolo segno, tra una maggioranza che dovrebbe cobertare, che eventualmente vergognarsi di appoggiarsi, perché no, che sono sotto gli obiettivi, è una condizione che cerca di caldare la maggioranza con lo spirito anche, che è un linguaggio che non deve essere necessariamente quello dello scopo. Ovviamente non sempre questo ci è stato permesso in questi mesi. Quindi dicevo, credo che stasera è un momento, anzi un fatto, c'è una parte del Vicepresidente che è un ruolo da vincolente simbolico, no? Che cerca di equilibrare il Presidente che viene portato da, di solito, dalla maggioranza, viene un po' di scuole che ha passato con lui come il Vicepresidente. Io mi auguro, scusami, scusami, solo per mettere un po' tutti, eh? Io mi auguro che almeno Satela, e faccio l'appello ai consiglieri comunali, ai banchi della maggioranza, mettono un punto a questa situazione, cercando non di votare, io dico, lo scopo diceva prima che la maggioranza deve votare la figura che mi resta dall'opposizione, che lì da adesso ovviamente Giovanni Giuseppe è un uomo che ha fatto parte della coalizione che mi ha sostenuto, quindi dell'opposizione, una persona che degna di stima e che quindi io ritengo sia un un buon candidato alla Vicepresidenza. Quindi, detto questo, io mi auguro che invece la maggioranza si attenta dall'opposizione, ma io dà un atto di essere una volta tanto nel frate, se si mette ovviamente in una situazione diversa, che non c'è ovviamente conoscioni, stati, tanto se ovviamente vengono di estrarre del capo, del capo della maggioranza. Io quindi ritengo che sia opportuno in questo momento di la maggioranza lasci l'opposizione scetica il suo uomo e che l'ovia persona venga ad infranciare in quello che si metta la loro superazione. Allora, mi accetto di dire a dire con il consigliere del decreto? Io, il consiglio, il consiglio, il consiglio per questa candidatura, io credo che... insomma, Ma anche se, come dice Massio, potete anche risultare un ruolo più che altro di... No, simbolico, esattamente così, perché tutti i ruoli sporti all'interno della casa comunale, siccome sono i cittadini che ci vanno, qui non è mai simbolico, ma pensi che fa sempre una mansione da svolgere per l'incarico da puntare, per l'interesse dei cittadini, per l'interesse della cittadina. Guardate, io credo che veramente questo sia un momento in cui voglio uscire dalla dignità. Anche lo stesso io, che mi piacciono le parole di stima di tutta la maggioranza degli attivanti, mi chiedo se tiene maggioranza la posizione. Io voglio capire, veramente, se questo sindaco è di questo, io ho tutti i miei due parole, a cosa in questa città sia amministrata in modo reale e trasparente. Io credo che questo mio nome oggi, io, che venga con l'unità che attende all'opposizione e fa la maggioranza. Poi la maggioranza sarà quello che vuole. Io devo capire, il nome dei nostri piedi, che sono nella sua posizione, che sono nella sua posizione. Grazie. 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 che è che diciamo l'ossessione per il fatto dei contenuti del tema. Allora, io penso che, come dire, e questo lo vedo anche quando svolgevano con i denti, un giorno intende che il Consiglio è parlato da più l'altro, evidentemente che nel Consiglio di Polizia qui si tratta di faccia capire se io devo calcolare, calcolarlo a me, guarda l'opera e parlare con la sua. Quindi ecco che, diciamo, nella composizione del Consiglio di Polizia si debba costruire quella esercizietà che, ovviamente, a cui cresce davvero anche chi ne ha presenza. e io penso che la candidatura del Consiglio di Polizia, questa, questa candidatura, si è stato assegnato dai cittadini a stare a un'attivazione. che poi gli eletti abbiano risenuto di fare nella maggioranza di quella esercizietà opposizione, percorsi avvergativi che io definirei sinositari e schizofreniche. questo non comporta alcun che rispetto alla candidatura che oggi ci viene. ma la cosa divertente è che proprio che il prezzo si intiene il prezzo, uno, conquistare il voto di qualcuno di che sentire il ragionamento che si sta cercando di fare. perché il prezzo è che, laddove noi abbiamo un candidato che viene dalle città di chi non lo vive, eletto, è stato eletto, è stata la composizione. chi ha deciso di stare la composizione non può far altro che ratificare la scena. quindi a prescindere dal merito e dalle competenze del candidato. è però altrettanto evidente il corretto che io dica e che mostri l'apprezzamento nei confronti del candidato soprattutto se si pensa alla vicinanza che ha saputo dimostrare anche nel periodo in cui in quell'ufficio di presenza chiedevo anch'io e lo facevo andando nella testa. quindi il voto convinto personale e poi anticipato è un fatto solo di tempo probabilmente il voto del capogruppo del Partito Democratico quindi io intanto lo esplicito come un voto personale ma sono convinto che sarà poi il voto del Partito è assolutamente una questione che ti penso, logica a favore del consigliere del Presidente. che ciò è il numero uno che non si può raggiungerlo? ma io non ho capito, non ho capito, non ho capito e non ho capito, 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 non ho capito. non ho capito, non ho capito. il consigliere del Partito Democratico richiama i consiglieri del Partito Democratico alle regole quanto poi altre tranne non fa quando queste regole non possono essere rispettate rispettate dallo stesso signori Vedi l'interrogazione che fa la parola precedente? Viene scelte, innanzitutto il ringraziamento al consigliere Cervuto. Poi il movimento, il Partito Democratico, che accoglie il vino di Cervatovi, prima e partito dal consigliere Emilio Connessi, che propone alla vicepresidenza del Consigliato, il consigliere Giovanni De Freca. E rileggo che il Consiglio, i consiglieri comunali, in modo particolare, questo è un ammello che faccia i consiglieri maggioranza, di essere anche qui, prendere tempo dal consigliere Cervuto, ed essere rispettosi di quello che è la parte, quello che è il regolamento, a sito, all'interno di Cervutovi, e quindi di accogliere con, come dire, con trasparenza, accogliere un'occasione che per la prima volta, a livello di questo Consiglio, si fa una proposta unitaria, e con un'unico consigliere, un'unico consigliere romana. E quindi sarebbe cosa buona e giusta dell'intero Consiglio Comunale, in questo caso, si è caratterizzata, e la accoglierà che l'unico che si è fatto, la domanda, che è il suo polizio, e la approvare la vicepresidenza, la vicepresidenza in così, inattanto all'autosistico, come recita il regolamento, mi apro che la parte della maggioranza ricorda che in questo caso non si caratterizza con arroganza, non accoglierà questo indico che viene posto da giusta e che ci venga sottolineare la domanda opposizione. Grazie. Grazie, Giorgione Ragiano, se non ci sono normali di retentere, c'è chiesto un problema di intervento, Giorgione Corruzzo. Se ci stende per restabile un attimo, la verità storica, allora, due punti a scendere il Consiglio, per un po' di 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 un po'. io qui che faccio due le indicazioni, innanzitutto il consigliere Cercone fin da all'interno della maggioranza dalla famosa notte del 23 marzo, iniziamo a specificare i momenti storici, quindi da 23 marzo a oggi, e fettiamo un po' questo buonismo da quattro giorni, da 23 marzo a oggi il consigliere Cercone ha rassegliato le sue decisioni da vicepresidente soltanto un paese di risparmio di parte, e la voce che c'è, è sempre stato tra vacanza, è sempre stato attenzibile a questi argomenti alcune volte, alcune volte, infatti, è stata letta successivamente ed è già membro della maggioranza però, lasciando stare che alcune volte è stato compulsato, è stato compulsato dai due pochi colleghi di maggioranza e ha chiesto una forza, una forza, una forza, una forza, una forza, quando tutti volete arregliare le decisioni, è tutto che qualcuno che è costretto a non parlare, come qualcuno che è costretto a preghiedere la, dice, la, quella delicata parte dell'elezione della presidenza di sé, perché va altro che impropenso dalla, dalla loro condizione, candidato di Isrago che dovrebbe avere il capitolo morto fuori da questa città, adesso, amico, intimo, e allora questo, perdonare, questo è specialmente il principale della milità storica sui parti, secondo punto, la composizione del pubblico di presidenza, ma lo chiamo detto, ovviamente, il mio parere è un parere probato, lo sai, come ho già detto prima, l'organo che è un pubblico di presidenza ha un obbito importante, è quello di dare la sua opinione sul regolamento e sull'attuazione di questo regolamento, nel caso dovessero sorgere delle garantite del Consiglio Comunale sull'idea in relazione di alcune norme del regolamento, questo ho fatto, l'ubblico di presidenza, invece, per dire, io l'organo di cario, mi penso alla presidenza, allora, l'ubblico all'unità, sepprime, all'unità, qui si fa, il mio posto, il contatto contrario, è un membro, e la presidenza, sepprima, non può essere alla maggioranza, perché la eleggere, la maggioranza, allora, l'opposizione, perché è così falsa, perché si richiede, perché il ragionamento, il vicepresidente, debba rappresentare l'intero consenso civile, allora, il presidente, che è il maggioranza, il vicepresidente, che è l'opposizione, è il terzo che dovrebbe essere in carattere di tutto il Consiglio Comunale, è così che ne abbiamo, cioè la persona più rappresentativa all'interno del Consiglio Comunale, perché è il più votato della vita più votato. Adesso, l'intero elettorale, dopo, diciamo, casualità della sorte, ha voluto che il Consiglio era stato un consiglio, ma si dovrebbe essere compreso il maggior numero di voti, nella lista che ha detto il maggior numero di preferenze, e sicuramente il fatto di pagare, tu dici, al caso, che terra il primo partito. Per questo motivo, questa composizione che mi sembra così assoluta, perché non è senso che tutti i quali gli organici di questa testazione debbano essere l'abbattaggio della maggioranza. Questa è una falsa idea che ci sono stati pubblicati, i tuoi propri amici, che tattavigli a tutto posto. Questo semplicemente è una falsa idea. Per questo motivo io vi faccio una sola volta un concetto fondamentale, secondo me. Lasciate che quest'organo ritorni nell'ambito della sua potenza, nessun altro no, che è da parte dell'opposizione. Una volta che ha dimostrato l'intero elettorale di solo un punto di partito, in re-pollizione, cercate di faccia però la contestia, non di asserire, perché sarebbe secondo me la sottessa, la sottare di sicurezza, anche perché noi se riusciamo a trovare questa convergenza, noi attraverso la prima votazione togliamo il capo da mente, noi lo dobbiamo riportare nuovamente alla presenza del Consiglio Comunale e ci saltiamo nuovamente sul ragionamento, infatti dopo di quello facciamo dopo, quindi evitare il risultato di farlo a volte ai nostri comportamenti. Noi ci sono che l'abbiamo fatto, Giovanni e Frecchia ha trovato una limitata in tutta la posizione. Se ci volete fare la cortesia di... la cortesia dovrebbe essere una ragione di competenza istituzionale, poi la vogliamo chiamare cortesia, poi questa ragionanza deve essere in struttura con cortesia. Va bene, in questo motivo, vi ringrazio, concluso, figlio, vedo gli obiettivi e le domande di aspettare. Noi sono pastorale, da pure lo stesso, e facciate le tue chiese. Volete controllare il mio tempo? Grazie a tutti.